Parliamo di pallannuoto nel derby pescarese di serie maschile tra club acquatico e Pescara. La squadra del presidente Riccardo Fustinoni nella piscina di Passetto di Ancona esce a distanza, vince con il punteggio di 10 a 7. Adesso il mister Franco Di Fulvio, tecnico del Pescara, avrà a disposizione 20 giorni di tempo per preparare lo spareggio salvezza, complice anche il turno di riposo che la squadra deve osservare nell'ultima giornata di regular season. Il club acquatico si prepara invece ai playoff promozione.